La passeggiata in centro, l'aperitivo all'aperto, le comitive di turisti, la corsetta sulle mura e nei vicoli insolitamente liberi o quasi dalle auto. Istantanee della seconda domenica ecologica a Treviso, stop alle auto dentro le mura fino alle 18 e la bella giornata di sole ha offerto la città nella sua luce migliore per turisti e trevigiani. In parecchi hanno approfittato per fare un po' di attività fisica all'aperto. Sarei molto felice che queste iniziative ecologiche fossero anche più presenti, più diffuse, che venisse fatto di più per questa città splendida. Non sapevo che ci fosse la domenica ecologica ma comunque noi approfittiamo ogni domenica per fare dello sport. E se non ci sono le auto? E melte, molto meglio, si vive la città in maniera migliore. Noi poi ragazzi apparteniamo alla squadra delle Tinky Carla Pinerello quindi siamo sempre sui pedali però abituatevi a utilizzare la bicicletta. Fa bene soprattutto a voi stessi e poi all'ambiente che ci circonda. Tutto esaurito nei parcheggi messi a disposizione fuori le mura. Abbiamo messo a disposizione molti parcheggi appena esterno mura e quindi siamo soddisfatti. Traffico a momenti sostenuto lungo il PUT ma sempre scorrevole. I varchi del centro presidiati da una decina di agenti di polizia locale e dagli ausiliari. Nessuna sanzione elevata. In base ai transiti registrati con il Targa System si stima un flusso in città di circa 80.000 persone. Hanno contribuito anche gli eventi sportivi in programma. Ci sono diverse manifestazioni sportive. Gioca il Treviso Calcio, gioca il Rebi e suggerisco alle persone di arrivare in bicicletta dove possibile. E poi le Treviso Uoma che sono qui in piazzale Burchiellati e sicuramente faranno vedere il meglio di se stessi.